Il Consiglio Comunale di Napoli, che avrebbe dovuto discutere del riordino delle municipalità, è saltato e rinviato al 9 febbraio. Napoli però, attraverso il sindaco, fa un passo in avanti nei confronti del governo, dopo le polemiche generate dalle continue frecciate sul caso Bagnoli tra De Magistris e il Premier Renzi. Questa mattina, a margine del Consiglio, saltato per mancanza di numero legale, il primo cittadino è quindi tornato sull'argomento, invitando il Presidente del Consiglio a venire in città. Rimane la nostra posizione ferma e chiara sul commissariamento di Bagnoli, quindi nei confronti di quella cabina di regia noi non ci siamo e non ci staremo, ma nello stesso tempo, come abbiamo sempre fatto, noi siamo per il no a determinate cose che abbiamo ben spiegato e per l'immediato inizio della riqualificazione di Bagnoli. Lo abbiamo dimostrato con i fatti, predisponendo un piano, le linee di indirizzo sono state approvate dal Consiglio Comunale e abbiamo discusso in città. Quindi noi adesso siamo passati alla fase 2, dopo aver messo e consolidato le postazioni della Resistenza contro un'occupazione illegittima della democrazia di prossimità, siamo passati alla fase 2, che è quella di spiegare, raccontare e diffondere in città il nostro piano, e come è giusto che sia, rappresentando noi le istituzioni democratiche, sottoponendolo all'attenzione delle altre istituzioni interessate sulla vicenda Bagnoli, che sono il Governo nazionale e il Governo regionale. Quindi ho scritto tre distinte lettere, la prima inviata al Presidente del Consiglio, la seconda inviata al rappresentante del Governo che il Presidente del Consiglio ha delegato su Bagnoli e De Vincenti, quindi come sottosegretario e non come Presidente della cabina di regia, che noi non riconosciamo, e al Presidente della Regione, De Luca.